E allora siamo arrivati alla pagina sportiva con tutti gli aggiornamenti in collegamento in diretta per noi Massimo Profeda. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te e a tutti gli amici di visione dell'ascolto. Allora partiamo da Facundo Lescano, ieri le visite mediche, attaccante argentino classe 1996 che poi ha firmato il contratto. Accordo Biennale, oggi l'annuncio del club è arrivato a titolo definitivo, lo ricordiamo, dall'Entella contestualmente e passato all'Entella, al club Ligure, Luca Clemenza dunque ufficiale lo scambio tra queste due società. Entro questa sera la risposta del metodista Salvatore Pezzella, classe 2000 di proprietà della Roma, ex Siena Modena Reggiana, attesa anche per lo svincolato Luca Mora, tra giovedì e venerdì la 34enne Mezzala, ex SPAL, comunicherà la sua decisione. C'è l'intesa sulla durata del contratto, un anno con opzione. Conferme sull'italo-ganese Jabua, classe 2001 di proprietà dell'Atalanta. La Mezzala deve però prima rinnovare col club Nerazzurro e poi sarà girato in prestito secco alla Delfino. Non ci sono sviluppi sulla trattativa con la trequartista Pasquale Maiorino, che è stato espressamente richiesto dal neotecnico del Pescara Alberto Colombo, in arrivo dal Chisola, società piemontese che ha vinto il campionato di eccellenza nello spareggio nella finale contro l'Aquila. Il classe 2002 Gianluca Germinario, ruolo Mezzala e una scommessa del DS Biancazzurro Dellicarri. Valutazioni in corso sul portiere da affiancare a Sommariva, arrivato a titolo definitivo, lo ricordiamo, dal Monza. Non sarà Santalino, ex Monopoli, ex Cesena, né Russo. Entrambi sono di proprietà del Sassuolo. Tra i candidati c'è sempre il portiere Guidotti che ha difeso la porta del Gubbio di proprietà della Fiorentina classe 2000, ma attenzione il nome nuovo, il nome nuovo è Jacopo Furlan, classe 1993, ha giocato 150 partite in Serie C con tante squadre, Catania, Catanzaro, Monopoli, Trapani, ma è di proprietà dell'Empoli. Tra l'altro oggi è attesa la firma del 22enne laterale mancino Davide Di Marino che è arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto e non più obbligo di riscatto in caso di promozione del Delfino. Domani visite mediche per il terzino destro Matteo Saccani, prestito secco dal Sassuolo per il portiere Daniele Sommariva e la centrocampista Luca Lombardi che ricordiamo sono entrambi arrivati a titolo definitivo dal Monza nell'ambito dell'operazione che ha portato con la stessa formula il portiere Alessandro Sorrentino al club Brianzolo. Il ventenne centrocampista sia Tunis non ha ancora sciolto le riserve e approderebbe comunque in prestito secco e ricordiamo che è un altro giocatore che arriva dal Monza. Giovedì invece visita medica per il non ancora 25enne attaccante Luigi Cuppone che è arrivato dalla Cittadella in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni ovvero 15 gol dall'ex attaccante del Potenza della Casertana nel prossimo campionato di Serie C con la maglia del Pescara oppure promozione del Delfino in Serie B con il 60% delle presenze. Pista bulgare per il centrocampista Franco Senegalese Giambo classe 2001 infine è saltato per motivi organizzativi il test col Padova inizialmente in programma a Rivisondoli sabato 23 luglio si sta cercando naturalmente un altro avversario. È tutto, la linea può tornare a te Marina.